Capitolo 2. La cartella clinica ambulatoriale. La cartella clinica è costituita da un insieme di documenti in cui vengono registrate tutte le informazioni relative a un paziente, sia anagrafiche e giuridiche sia anamnestiche, con i risultati di eventuali esami eseguiti. In pratica si tratta di una sorta di diario della salute e attraverso di essa è possibile ottenere il quadro anamnestico complessivo, cioè la storia della salute del soggetto, al fine di stabilire la diagnosi corretta e, quindi, la terapia più appropriata. Come nasce la cartella clinica? La cartella clinica è uno strumento da sempre utilizzato dai medici e pertanto la sua origine è antica quanto la medicina stessa. Le tracce più remote di una cartella clinica sono state rinvenute in Spagna, in alcuni graffiti parietali risalenti al paleolitico nei quali sono stati individuati riferimenti clinici. Per quanto riguarda l'antico Egitto, vi sono documenti, databili intorno al 3000-2000 avanti Cristo che testimoniano come i medici registrassero il proprio operato. Ai tempi di Ippocrate sappiamo che negli Asclepei, i tempi ospedali, esistevano colonne sulle quali venivano scolpite, a fianco dei nomi dei pazienti, brevi descrizioni delle loro patologie. Nell'antica Roma Galeno, considerato dopo Ippocrate il padre della medicina, comprese l'importanza di raccogliere la casistica clinica, tanto che venivano elaborati resoconti medici dei quali ci ha giunta traccia attraverso gli acta di urna. Come si compila la cartella clinica? La cartella clinica nasce come una serie di annotazioni finalizzate a segnalare e ricordare situazioni cliniche principalmente ad altri colleghi, oggi riveste un ruolo documentativo obbligatorio. Non vi è una normativa specifica che fornisca indicazioni precise su come compilare e gestire una cartella clinica. Secondo il Ministero della Sanità, 1992, essa è lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente. I riferimenti giuridici della cartella clinica sono rappresentati dal Reggio Decreto 30 settembre 1938 numero 1631 articolo 24, dal DPR 27 marzo 1969 numero 128 articolo 27, dal DPR 14 marzo 1974 numero 225 e dal nuovo Codice di Deontologia Medica. In particolare, l'articolo 26 di quest'ultimo definisce la cartella clinica un documento essenziale, che va redatto con completezza, chiarezza e diligenza, riportando i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate. Ecco alcune regole da tenere presenti ai fini di una corretta compilazione. La cartella clinica deve essere scritta in maniera chiara e leggibile da tutti gli operatori sanitari, medici, odontoiatri, igienisti e infermieri. Le informazioni in essa contenute devono essere complete, referti di esami, diagnosi, terapie ecc., e devono essere inserite immediatamente dall'operatore, non in un secondo tempo. È questo l'unico modo affinché un altro operatore possa avere il quadro completo della situazione del paziente. Non è possibile cancellare eventuali annotazioni già scritte, ma solo aggiungere ulteriori note di rettifica. La cartella clinica contiene dati e informazioni personali del paziente, ovvero dati sensibili che non possono essere accessibili a persone diverse dal curante senza il previo consenso scritto da parte del paziente stesso, in tali situazioni quest'ultimo, generalmente, manifesta il proprio consenso leggendo e firmando un apposito modulo. Per le disposizioni volte a garantire la riservatezza dei dati, fare riferimento prima di tutto all'articolo 36 della legge 675.996, al decreto legislativo numero 282.999, al DPR 29 luglio 1999, numero 318, al decreto legislativo numero 196 2003 e alle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 53 2019, dal DM 15 marzo 2019 e dal decreto di adeguamento al GDPR, decreto legislativo numero 101 2018. La circolare del Ministero della Sanità, Direzione Generale Ospedale di. 2 numero 61 del 19 dicembre 1986 numero 900.2 barrad. 464 260 recita che le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario. La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni. Per le strutture private, il termine di prescrizione ordinaria per la conservazione della documentazione clinica è di 10 anni e dopo tale periodo andrebbe distrutta, l'eventuale prolungamento della conservazione delle informazioni del paziente va concordato con il paziente con una specifica informativa. Reg. Ue 2016 679, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 numero 101. La cartella clinica fa parte della categoria degli atti pubblici, e pertanto, in base alla legge 31 dicembre 1996, numero 675 e del DM 14 febbraio 1997, responsabile della compilazione e dell'archiviazione presso le strutture ospitaliere e il primario del reparto in cui il paziente è in cura e poi alla direzione sanitaria quando essa è archiviata, l'incarico di conservare la cartella all'interno del reparto spetta all'infermiere. La normativa prevede l'obbligo della conservazione delle cartelle cliniche solo per le strutture pubbliche. Per quanto riguarda gli studi privati, la mancanza di tale documentazione in caso di contestazioni si configura però come elemento di prova negativo a carico del professionista, che è tenuto a provare di aver operato in ottemperanza i criteri di diligenza previsti dall'articolo 1176 del Codice Civile. Informazioni da inserire nella cartella clinica o dontoiatrica. Naturalmente anche la cartella clinica o dontoiatrica deve essere redatta e organizzata in modo da registrare tutte le informazioni diagnostiche relative alle condizioni orali del paziente, descrivere l'iter terapeutico e, o eventuali indicazioni cautelative, precauzionali, rettifiche o adeguamenti emersi durante le varie sedute al fine di assicurare che le procedure o dontoiatriche e di igiene dentale non provochino danni al paziente e di prevenire situazioni di emergenza. Permettere l'eventuale riconoscimento di condizioni non rilevate, per esempio carie, malocclusioni, lesioni del cavo orale, e per le quali il paziente potrebbe essere indirizzato ad altro specialista per approfondimenti diagnostici ed eventuali terapie. Rilevare lo stato di salute generale e di nutrizione del paziente e la presenza di eventuali allergie, per esempio allergie al lattice, in quanto condizioni influenti sull'esito dei trattamenti e per valutare l'eventuale interazione con patologie e prodotti utilizzati nella profilassi. Annotare eventuali fattori psicoemotivi, culturali o comportamenti del paziente che potrebbero influire sullo svolgimento delle sedute o sulla continuazione della terapia. Riassumere l'andamento delle sedute o dei controlli periodici per gli opportuni confronti e riferimenti. Costituire un documento atto a provare di avere operato secondo i criteri di diligenza, articolo 1176 Codice Civile, in caso di questioni legali. La cartella ambulatoriale. Nelle figure delle pagine che seguono viene illustrata la cartella ambulatoriale in uso presso il corso di studio in igiene dentale dell'Università Milano Bicocca per la raccolta dei dati del paziente. A tal fine proponiamo in appendice 3 il documento prescrittivo ASG da 027 attualmente in vigore presso l'azienda ospedaliera San Gerardo in merito ai requisiti della documentazione sanitaria ambulatoriale. La cartella ambulatoriale si compone di alcune parti fondamentali. Dati personali, con diagnosi di indio, allergie e ipersensibilità, presenza di infezioni trasmissibili e valutazione del dolore, nei modi descritti più avanti. Anamnesi medica generale, composta da anamnesi patologica remota e prossima, terapia farmacologica ed esami strumentali precedenti. Esame obiettivo finalizzato all'anamnesio-dontoiatrica ed eventuali ipotesi diagnostica, prescrizioni terapeutiche al primo accesso ed educazione della persona o del caregiver. Consensi, alle cure e al trattamento dei dati personali, rilevamento dello stato di salute e la possibilità della comunicazione dello stesso a terze persone, tramite il numero di telefono che verrà indicato, e il consenso all'utilizzo e alla raccolta di immagini fotografiche. Diario clinico, in cui l'operatore deve inserire in stampatello la data e l'ora della prestazione, le procedure eseguite e il proprio nome, inoltre il tutor convaliderà la prestazione aggiungendo la propria matricola e, o nome e cognome in modo leggibile. Esame intra- ed extra-orale, descritto più avanti. Valutazione parodontale, descritta nel capitolo 3. Rilevazioni degli indici di placca e di sanguinamento ai follow-up Analizzando in modo specifico tutti i punti sopra elencati, vediamo che le informazioni personali raccolte sono le generalità del paziente, cioè i dati anagrafici e fiscali e recapiti, quali il luogo di residenza, il numero telefonico ecc. Nel caso di minorenni o inabilitati bisognerà richiedere il consenso dei genitori o del tutore. In caso di approfondimenti diagnostici è utile anche stabilire un contatto con il medico curante. La raccolta dei dati avviene durante un colloquio personale con il paziente, che rappresenta una fase delicata di preparazione della cartella clinica, al fine di ottenere informazioni più dettagliate e definire compiutamente il quadro clinico. In tale fase, che richiede doti di sensibilità, attenzione e disponibilità, è possibile stabilire un rapporto di fiducia reciproca tra operatore e paziente, in modo da ottenere la disponibilità, la motivazione e la collaborazione continuativa, compliance, di quest'ultimo. Durante il colloquio è importante che il paziente si senta proprio agio e tranquillo, libero di esprimersi apertamente, di solito lo si fa accomodare in un ambiente riservato, silenzioso e confortevole. Ciò è importante per fare emergere eventuali patologie remote o trattamenti farmacologici sottovalutati dal paziente, e altresì richiesto di registrare l'eventuale presenza di dolori avvalendosi delle apposite scale di misurazione. FLAX, Facile Ex-Activity Cree Inconsolability Scale, utilizzata per i bambini piccoli, a partire dai due mesi di età, o non collaboranti e si basa su cinque parametri a ognuno dei quali viene assegnato un punteggio da 0 a 2. Bongbacher utilizzata per i bambini a partire dai tre anni di età o che risultino collaboranti e prevede che sia il bambino stesso a indicare il grado di dolore, scegliendo la faccina che ritiene corrispondente. Numerical Rating Scale, Valutazione Numerica, utilizzata per le persone adulte, prevede che sia il paziente stesso a indicare un numero, che va da 0 a 10, che identifichi al meglio il grado di dolore percepito. L'anamnesi medica generale prevede la raccolta di informazioni anamnestiche personali, familiari e patologiche del soggetto, ovvero inerenti la vita del paziente, a partire dalla nascita, e della sua famiglia, indagando su eventuali malattie recenti e del passato, anamnesi patologica prossima e remota, con le modalità di insorgenza, il decorso e le eventuali terapie in atto. L'esame intra- ed extraorale è fondamentale per attuare terapie di igiene dentale e odontoiatriche ed è finalizzato a rilevare le condizioni del cavo orale. Precedenti trattamenti odontoiatrici, cure preventive, riabilitazioni protesiche. Attraverso l'esame obiettivo extraorale e intraorale è possibile intercettare l'eventuale presenza di parafunzioni, patologie o lesioni sospette, in particolar modo quelle precancerose, e anomalie intra- ed extraorali che potrebbero richiedere accorgimenti speciali nel trattamento di igiene dentale e meritare approfondimenti diagnostici. L'esame obiettivo intra- ed extraorale inizia con la rilevazione della pressione e l'osservazione dell'aspetto generale del paziente, del volto e del cavo orale, è il primo passo fondamentale del clinico. L'esame obiettivo extraorale comprende la palpazione, che può essere effettuata con uno più dita e con uno o entrambe le mani. Palpazione digitale, si usa un solo dito, generalmente l'indice, per palpare la regione di interesse, per esempio, per rilevare eventuali rilievi mandibolari si fa scorrere il dito indice all'interno del bordo mandibolare, sotto l'area canino premolare. Palpazione bidigitale, si usano pollice e indice per palpare, per esempio, il labbro. Palpazione bimanuale, è possibile utilizzare contemporaneamente più dita di entrambe le mani in posizione opposta, come per esempio quando si vuole ispezionare il pavimento della bocca, in questo caso l'indice di una mano palpa dall'interno della bocca, mentre con uno o più dita dell'altra mano si esercita una pressione sulla stessa area ma esternamente, al di sotto del mento. Palpazione bilaterale, si utilizzano contemporaneamente entrambe le mani al fine di ispezionare strutture corrispondenti in punti opposti del corpo, come per esempio per rilevare l'eventuale presenza di linfonodi sottomandibolari o valutare la funzionalità dell'articolazione temporomandibolare. Per indagare l'eventuale presenza di algie e disordini temporomandibolari bisogna poi rivolgere al paziente alcune domande proposte dall'American Academy of Horofacial Pine. Ha mai avuto dolore a mascelle, tempie, orecchie o davanti all'orecchio? Negli ultimi 30 giorni ha sentito rumori muovendo la mandibola? È mai rimasto a bocca chiusa o ha mai avuto la sensazione che la bocca non si aprisse del tutto? Aprendo la bocca, ha mai provato dolore, difficoltà o è rimasta bloccata a bocca aperta? Negli ultimi 30 giorni ha avuto mal di testa che includesse l'area delle tempie? La risposta affermativa anche a una sola domanda indica l'utilità di una diagnosi da parte dell'odontoiatra o di uno specialista maxillofacciale. L'esame obiettivo intraorale prevede poi la valutazione anche della deglutizione, delle labbra, della mucosa orale, palato duro e molle, gola, lingua, frenuli e aree sublinguali. È opportuno segnalare in cartella, durante l'ispezione intraorale, anche la morfologia della lingua, poiché alcuni pazienti possono presentare la lingua, per esempio, a carta geografica, fissurata o patinata che potrebbero creare algie al paziente. Per una corretta ispezione della lingua, l'operatore dovrà utilizzare una garzina che consenta il bloccaggio dei muscoli.